Ci sono zone a gela dove l'acqua manca per settimane intere e la gente giustamente protesta. Ci sono altre aree invece dove l'acqua si perde per strada a causa di rotture alla condotta. Siamo in via Aspromonte, nei pressi della rotatoria di via Butera. Le immagini sono eloquenti. 24 ore sopra 24 ore, quindi praticamente più di un mese che hanno fatto reclami gli amici miei qua ai vicini, sia al Comando di Polizia dei Vigili Urbani, sia a Caltacqua, sia all'Urpe. Purtroppo non è venuto nessuno magari a controllare e dire magari c'è questo problema qua. In certe zone ci sono persone che hanno 10-12 giorni senza acqua e qua 24 ore, sopra 24 ore, che c'è questa perdita continua. Una cosa così vergognosa non l'ho mai vista da una vita. e l'acqua c'è e ci manca l'acqua. Non è vero che manca l'acqua. Questa è quando l'acqua si perde. Non c'è giorno che c'è, io stavo qua. Un fiume vero e proprio. Una cosa, una cosa imbazzita, una cosa incredibile. Non è da Polizia, non sai che dici, vogliamo fare le altre. No, ma a telefonarci e solo a lasciare. Con le nostre telecamere ci siamo spostati in via Pesaro. Un fiume invade la carreggiata. Da quanto tempo è che avete questo problema? 14 settembre. E nessuno è intervenuto? Nessuno, nessuno. Più di una volta ci siamo andati alla caltacqua, nessuno si è presente. E cosa vi hanno detto? Niente. Stiamo provvedendo. Ma cosa è provvedendo? A niente. C'è una zona in cui l'acqua manca e qui addirittura... A questo glielo ho detto, glielo ho fatto presente. Glielo ho fatto presente dicendo che qua l'acqua, c'è un mare d'acqua che si perde. E dice, cosa ci posso fare? L'impiegato. Dice, va bene, dice, noi segnaliamo. Dopodiché, se viene qualcuno la ripara, ci vogliono 10 minuti, proprio a quel tubo lì, ci vogliono 10 minuti per fare il lavoro. Non si presenta nessuno. L'acqua copiosa fuoriesce anche dalla condotta di via Generale Cascino. Avete segnalato il problema che di competenza? 50 volte. Sia a caltacqua qui, sia 50 volte telefonato a caltacqua che mi dicono che devono chiamare qua. Poi è venuto un vigile a fare le foto e ho segnalato ora che ci sono le foto. 50 mila volte mi ho segnalato. È una situazione che voi non reggete più? No, perché non si può stare, sembra menso l'acqua. E sembra a casa, ce l'hai sporca.